Mi chiamo Mirian Casturà, sono di Lanciano, sono stata invitata da Don Michelino con cui collaboriamo per queste battaglie, non sono battaglie politiche ma battaglie civili. Noi chiediamo il rispetto della volontà dei cittadini e della qualità della vita, ci troviamo in una zona forse la più preziosa del nostro territorio che stanno devastando senza preoccuparsi del futuro dei figli e di chi ci abita da sempre, gente che fa i sacrifici per coltivare questi terreni e per far sì che i nostri prodotti vengano portati fuori, fuori dall'Abruzzo, fuori dall'Italia, qui abbiamo il nostro oro. In un momento in cui l'economia è veramente a terra potremmo ripensare a dar valore ai nostri terreni, mettere un elettrodotto di 380 mila kilowatt sui tetti delle case e nei nostri terreni vuol dire veramente pensare all'inciviltà politica, noi chiediamo soltanto di apprezzare ciò che abbiamo e dar valore alla gente che ci vive e a ciò che chiede e chiede soltanto di essere ascoltato, non hanno detto no al passaggio dell'elettrodotto ma di non passare vicino alle case e vicino ai terreni coltivati.